La salute inizia dagli stili di vita, la buona educazione e la buona prevenzione secondo Slow Medicine. E' questo il titolo, la salute inizia dagli stili di vita, del convegno abruzzese di Slow Medicine questa mattina presso il centro congressi Cursal di Giulianova, con la partecipazione diretta dei fondatori del movimento Giorgio Bert, Silvana Quadrino e Andrea Gardini. Il convegno è realizzato in collaborazione con l'associazione Donatori di Sanque Fida, Scuore di Giulianova e l'associazione Slow Food Abruzzo Molise. Slow Medicine esprime una nuova modalità di approccio alla salute che trova la sua miglior sintesi nei tre aggettivi cui si accompagna sobria, rispettosa, giusta, che acquistano senso pieno solo se coniugate insieme. Nelle riflessioni della Slow Medicine l'uso della parola slow non è casuale e volutamente ed esplicitamente rimanda ai principi e alla filosofia del movimento Slow Food e alla sua pacifica rivoluzione per un cibo buono, pulito e giusto. Su queste parole chiave si muovono i progetti, le iniziative, le proposte su cui Slow Medicine intende coinvolgere professionisti sanitari, cittadini, associazioni, rappresentanti della stampa. Slow Medicine è quindi un'idea e una rete. È un convegno che tra l'altro unisce sia la Slow Medicine che la Fidas all'interno di un programma molto ricco di interventi e molto interessante. L'analisi degli stili di vita dei giovani ha posto l'attenzione su un dato emergente assolutamente nuovo. Abbiamo trovato una percentuale molto rilevante nella fascia adolescenziale di soggetti con malnutrizione. Il mito della magrezza sta cominciando a fare vittime tra i nostri giovani e quindi bisognerebbe enfatizzare di meno l'attenzione verso l'obesità e porre maggiore attenzione verso i disturbi del comportamento alimentare che rappresentano un vero problema della fascia adolescenziale.